Salve a tutti, sono Davide Rappotet, sono stato allievo di Paolo qualche anno fa. Il Kung Fu e tutte le cose che mi ha insegnato lui mi sono state estremamente utili, sia per un discorso di sicurezza personale, nel senso che sono diventato molto più sicuro di me, come anche un discorso di coordinazione fisica e di salute, ma specialmente in ambito professionale, in quanto devo per lavoro relazionarmi con delle persone che hanno problemi comportamentali e mi trovo spesso in situazioni pericolose e molto spesso in situazioni violente, dove devo mettere in sicurezza me stesso e il paziente, in modo che né io né il paziente stesso abbia a subire danni e neanche l'ambiente circostante. Il Kung Fu in questo senso mi ha dato un certo livello di percezione dei movimenti del corpo umano e un certo tipo di sicurezza nel gestire situazioni che sono molto spesso anche pericolose o fastidiose.